Da febbraio in poi è proprio esploso il canale. Dagli ultimi 30 giorni siamo a 18 milioni, penso. Quindi si va per i 20, che era quello che ci dicevamo. Esatto, esatto. Oggi state con me fino alla fine di questo video perché vi spiegherò i segreti che hanno portato uno youtuber già di grande successo a raddoppiare le proprie visualizzazioni e i propri guadagni nel giro di meno di 6 mesi. Un risultato pazzesco per un ragazzo che già era un influencer di buon successo e adesso mira ad arrivare nell'Olimpo dei top 10 d'Italia. Allora Marci, eccoci qua, benvenuto di nuovo. Grazie Roberto, ciao. Eccoci qua. Allora, senti, parto con una primissima domanda proprio sulla carriera di influencer. Certo. Secondo te, tu te la sei cercata o ti è capitata per caso? Allora, questa è una bella domanda. Io probabilmente non me la sono cercata. Mi è capitata per caso perché sono stato forse uno dei primi ragazzi ad iniziare YouTube nel 2010 con dei canalini che facevano effetti visivi con dei programmi gratis, cose del genere. Poi ho iniziato a fare dei telegiornali di quando andavo al mare in Puglia. Tutta questa cosa qui non la sa nessuno, quindi è esclusiva. E poi nel 2012 ho aperto il mio canale di Minecraft, però non sapevo che sarebbe diventato un lavoro di lì a quattro anni e è capitato comunque tutto per caso, diciamo. Quando ho iniziato a intravedere un po' l'idea che potesse diventare un lavoro, ho spinto un pochettino, certo. Però non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Ah, senti, in che momento hai capito che potrebbe diventare un mestiere, un lavoro vero? Allora, io penso di averlo capito forse a inizio 2016, quando ho iniziato a vedere lo stipendio di YouTube che iniziava veramente ad alzarsi. Sono stati i miei primi 700 euro in un mese e da lì ho detto, cavolo, se posso guadagnare 700 euro in un mese può diventare un lavoro vero. 700 euro al mese erano comunque interessanti. E di lì a poco mi sono informato, dopo tre mesi che guadagnavo più o meno così, un po' meno, un po' più, insomma, giù di lì. Ho chiamato un commercialista, ho chiesto, senti, ma io sto guadagnando queste cifre e mi ha raccontato la storia dei 5 mila annui che io ancora non sapevo realmente. E mi ha detto, senti, proviamo, ci apriamo una partita IVA a forfettare, tanto, mala che vada, si chiude. E niente, è nato tutto così per caso, aprendo la partita IVA ad agosto del 2016. È stata veramente una cosa incredibile. Cioè ti fa capire, quando apri la partita IVA ti fa capire proprio chi ha del futuro come lavoro, se riesci ad impegnarti ci viene. Vuol dire che stai facendo sul serio, lì non si scherza più. Assolutamente. Fatture, contabilità. Brains, brains. Allora, senti, cosa hai fatto al traguardo dei 100.000 iscritti, di speciali, di pazzo? Allora, non ho fatto... Ti stai arrivando un milione? Niente di pazzo, niente di pazzo. Ho fatto la mia prima live su Twitch ed era circa l'8 giugno del 2016, quando Twitch non l'utilizzava praticamente nessuno, se no, non mi ricordavo qualcuno che l'utilizzasse. Ma io ho deciso di fare appunto la live su Twitch con quasi 2.000 persone, che per me al tempo era wow, 2.000 persone live. Anche oggi, eh? Sì, sì, era tantissimo. E il mio speciale è stato stare con i fan e raggiungerli assieme. Ho attaccato che era 99.500 più o meno, fino ai 100.000 li abbiamo raggiunti assieme, sì, sì. Figata. E penso di fare la stessa cosa anche col milione. Non ho mai fatto qualcosa di eclatante per gli speciali. A quanto stai? 840.000 adesso. Eh, quindi farei una maratona anche lì, chissà. Vediamo. Bene, bene, bene. Allora, senti, io ragazzi sai che dico sempre, lo sai anche tu, che devi avere qualcosa di ideale, di un po' più nobile da comunicare, un messaggio. Quindi qual è il messaggio di Marci, oltre il gameplay, oltre il vlog, oltre la tecnologia? Cioè, qual è il messaggio che dai a chi ti segue? Cosa impara? Come lasci una persona dopo aver visto un tuo contenuto? Tendenzialmente nei commenti leggo sempre dei messaggi con, mi piacerebbe essere come te, buono, pacato. Ed è proprio quello che voglio far passare. Io cerco sempre di essere gentile in tutto. Io ho deciso di essere family friendly, non perché sono seguito da un pubblico di bambini, perché non è realmente così, perché il pubblico è molto più ampio. Ma perché sono seguito anche da bambini, e l'insegnamento che voglio dare è quello che si può fare in trattenimento, essendo anche appunto family friendly. Io non... sono molto tranquilli in quello che faccio. Ecco, mi è capitato che quando qualcuno mi insultasse, prendesse questo insulto e spiegasse alle persone il perché era sbagliato. Per esempio, a me capita spesso che mi dicono sei ciccione, ok? Non è vero, però vabbè, anche fosse, spiego appunto ai fan, tendenzialmente quando sono in live, il perché è sbagliato fare un insulto del genere. Quindi voglio cercare di essere un esempio per i ragazzi che mi seguono, in tutte le cose, anche quando vengono insultati, eccetera, eccetera. Poi parliamo anche di tematiche più importanti a volte. Abbiamo parlato di tematiche quali bullismo, eccetera, eccetera, che non sono mai facili da trattare. Soprattutto quando sei in live, che magari avevano dei ragazzi che vogliono, diciamo, mettere il bastone fra le ruote e dar fastidio. Però tendenzialmente ho una chat molto tranquilla, che mi ascolta. E questo è importante, mi piace essere ascoltato per quello che dico e mi piace che la gente capisca che sono un ragazzo per bene e tutto qua. Alla fine sono contento che passi questa cosa dall'altra parte, perché comunque, leggendo tutti i messaggi, vedo che comunque la cosa passa. E voglio dare un insegnamento positivo ai ragazzi, perché tante volte nella società di adesso vedo che nascono con dei valori differenti. E mi piace che tante volte leggo il commento, ah ma sai, mi ha aiutato tantissimo. Poi ecco, mi piace molto aiutare, sono altruista e mi prendo sempre un'oretta al giorno per rispondere ai messaggi e cercare di aiutare anche quelle persone che magari hanno difficoltà e sono così. Mi conosci, dai, sono così. È proprio così. Senti, diciamo un po' dei tuoi record, così poi li metto anche nell'intro, perché non tutti sanno che, per esempio, in live hai fatto dei numeri da paura. Allora, non ricordo di preciso il picco esatto, ma su Twitch abbiamo toccato i 15.000, se non erro. 14-15.000 per un evento su Minecraft. 15.000 spettatori contemporanei. Contemporanei su Twitch, non su YouTube, esatto. E quello è stato il mio più grande record, diciamo, in live. Però ricordo anche la prima live su Twitch che avevo fatto 2.000 persone che erano tantissime al tempo, quando ancora non avevo 100.000 iscritti. Ma la cosa che mi ricordo di più è stata la prima volta che è stato lanciato YouTube Live, nel 2016, sempre 17, quando dicevano sempre che le live spingono, spingono. Sono stato uno dei primi a raggiungere i 5.000 spettatori su YouTube con una Bedwars, che è una modalità di Minecraft. Bene, bene, bene. Allora, senti, noi abbiamo fatto una sessione dedicata agli obiettivi, no? In uno dei nostri incontri di crescita, di coaching, chiamalo come vuoi. Certo. Allora, quanto è stato importante per te scrivere su carta nero su bianco i tuoi obiettivi, i tuoi 10 obiettivi più importanti? Allora, per salire di visualizzazioni, tantissimo. Perché ti poni un obiettivo e cerchi in tutti i modi di raggiungerlo. Ovviamente in modi giusti, cioè senza ricorrere a strategie strane. Proprio che tu ti scrivi questo obiettivo per dire, mi ero scritto anche l'obiettivo di raggiungere le 15 milioni di visualizzazioni mensili. Che prima, l'anno scorso, mi sembrava qualcosa di... Boh, è impossibile, è impossibile, dicevo sempre. È impossibile, è impossibile. E diamo un contesto, quindi la tua media nell'anno scorso... La mia media l'anno scorso era di 6 milioni, 7 milioni. Ho toccato le 9 a un certo punto, ma non ho mai raggiunto né le 10 e tanto meno le 15. Ma con dei percorsi di consulenza, di obiettivi. Cioè queste cose vengono tante volte viste in maniera negativa. In realtà sono tutt'altro. Cioè secondo me, questa è la mia personale parere, sono cose che servono a farti aprire gli occhi sui determinati punti della tua vita che magari non cogli. Anche il semplice scrivere degli obiettivi, io non ci avevo mai pensato prima. Scrivere l'obiettivo invece mi ha aiutato a mettermi in focus su quello che è realmente l'obiettivo principale. Non avere troppe cose da fare. Personalmente io ho 4 canali YouTube, più il canale Twitch. Io ho preso il primo canale, ho portato il primo canale al top. Poi Twitch, ho preso Twitch e l'ho portato al top. Poi ho preso il canale delle live e l'abbiamo portato al top. tramite l'assunzione di un editor che mi portava le live di Twitch su YouTube. E quindi adesso abbiamo 3 canali, più il canale Games che sta partendo adesso. Era un canale che c'era già. Però tutto fatto uno dopo l'altro. Non tutto assieme come facevo prima. Perché far tutto assieme senza far crescere l'anello principale non mi ha mai portato a nulla. Cioè rimanevo sempre così statico, diciamo. Quindi da gennaio che più o meno sei partito con questi nuovi intenti, tra l'altro è anche il momento in cui sei entrato da noi come agenzia. Che risultati hai avuto? Ho iniziato a crescere e diciamo che ho cambiato il mio modo di vedere le cose da novembre. E da novembre ho fatto un percorso di crescita importante. Tant'è che a febbraio poi, da febbraio in poi è proprio esploso il canale. Dai nei numeri. Poi facciamo vedere anche la sovrimprensione di Social Blade, però dai un po' di numeri. Ok, allora negli ultimi 30 giorni siamo a 18 milioni, penso. Quindi si va per i 20, che era quello che ci dicevamo. Esatto, esatto. In privato, in costruenza privata. 18.3 milioni e 50 mila iscritti generati questo mese. Uff, pazzesco. E basta, gli altri canali sono tutti in crescita, però comunque Marcipalla, che sarebbe il canale delle live, sta tenendo una media video di 80 mila, 70-80 mila, che sono parecchie. Sono parecchie per un canale appena aperto, live, con estratti live. Beh, ci sono canali con milioni di iscritti che magari faticano, quindi... Diciamo che ecco, il percorso... Questo è stato più un investimento, il canale delle live, perché ho pensato, se il mio pubblico di YouTube non riesce a guardare live, devo incentivarli a venire a vedermi live. Quindi abbiamo aperto questo canale, che alla fine era il mio primissimo canale. Ho trovato questo editor, l'editor ha iniziato a montarmi video benissimo, un grandissimo, ho trovato una persona fantastica. E a sua volta Twitch ha iniziato a crescere, perché probabilmente il pubblico di YouTube, vedendo il canale delle live, ha detto, cavolo, però fate le belle live, vado su Twitch. E da quando ho aperto questa cosa, diciamo che l'ecosistema sta crescendo assieme, diciamo. Twitch è veramente bollito o c'è ancora... O ha ancora senso lavorarci, secondo te? Secondo me quando sei grosso potrebbe avere molto senso, perché so che ha molto appeal con le aziende, e poi sicuramente quando fai numeri grossi hai per forza appeal con le aziende. Però dipende, secondo me dipende, questa cosa magari non tutti la dicono, ma dipende tanto da come ti poni, dai numeri che fai, perché secondo me su YouTube puoi raggiungere i numeri molto più alti. Poi io lo faccio perché, come ti dicevo prima, voglio dare anche un insegnamento ai fan, e con Twitch io ho veramente poca distanza con i fan per poter parlare, per poter interagire, eccetera, eccetera. Quindi mi viene anche più facile farlo, piuttosto che magari non farlo. Cioè lo faccio, non sono uno streamer in realtà, perché io streamo due ore al giorno, un'ora e mezza, due ore al giorno, ho dei giorni liberi, quindi non è che sono uno streamer vero che sta sei ore al giorno su Alive. Non sono capace. Uno streamer vero che, madonna, praticamente uno streamer vero sarebbe tipo come gli schiavi e le galè, ti ricordi? No. Cioè le libri di storie. Lì attaccati con le catene, vai, vai, tutto il giorno a streamare, 12 ore al giorno. Ma in realtà io stimo molto a chi fa il lavoro dello streamer, perché io personalmente non riuscirei a fare più di 8 ore al giorno di streaming, non sarei in grado di farlo. Io, boh, quelli che fanno 7 giorni su 7, 8-10 ore al giorno, li compatisco. Cioè sì, è un misto tra rispetto, però è anche, cioè dici, poverini, cioè una domenica con la ragazza magari, no? Cioè un fidanzato barra fidanzata, tanto per cambiare. Senti, allora, il singolo consiglio, la singola qualità, la singola cosa che diresti che serve obbligatoriamente per fare il tuo mestiere, quindi il mestiere di influencer. Allora, parliamo dello youtuber più che l'influencer perché non tocco varie zone degli influencer io. Allora, per YouTube la qualità è importantissima, ma non è fondamentale nel senso che attualmente è vero che su, per dire, su Minecraft c'è una richiesta elevata di contenuti sempre più fighi, diciamo. Però non è detto che non si riesca a crescere con dei contenuti più tranquilli. Secondo me serve tanta originalità. Su YouTube quando esce il contenuto nuovo il canale esplode. Cioè se un ragazzo fa un contenuto figo, nuovo, esplode. Poi ci vuole anche tanta fortuna, questo è un dato di fatto. Ma secondo me se c'è qualità, se c'è contenuto originale, se ci sono tutti questi fattori, può essere molto più facile la scalata adesso rispetto a prima, secondo me. Invece per Twitch, allora Twitch, secondo me è più difficile trovare, crearsi una nicchia su Twitch. Secondo me è più difficile rispetto a YouTube perché non so bene come funziona il sistema di consigliati su Twitch, però un canale nuovo secondo me fatica un po' di più a crescere, anche con contenuti originali e tutto. Perché comunque se tu devi fare delle cose, è difficile fare un video top, cioè riportare un video top su Twitch. Su Twitch sei più streamer, sei te stesso, quindi è più difficile secondo me. C'è un episodio particolare che ha cambiato la tua vita recentemente, in ultimi anni. C'è proprio un punto di svolta totale che dici, caspita, da qui fino a ieri ero così. Sì, 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 assolutamente sì. Due cose, la collaborazione con Steph e Fiere, che sono... Eh, mi sembra forte. ...in 2Players 1Console, che mi ha cambiato il modo di vedere determinate cose, perché non tanto perché collaboravo con gente grossa, ma quanto come mi hanno indirizzato su determinate scelte, che secondo me è la cosa che mi ha portato a dove sono ora, e il percorso di consulenze su determinate cose, che mi hanno veramente aiutato, perché, come dicevo, secondo me si dà per scontato cose che magari non sono scontate. Come ti poni con le persone, eccetera, eccetera, i rapporti personali, queste cose qua. E queste due cose qua, secondo me queste due cose qui mi hanno cambiato, quindi novembre-dicembre 2019, novembre-dicembre 2020. Sono stati i due step che mi hanno fatto arrivare dove sono ora. Penso di aver perso tantissimo tempo in passato con determinate scelte che avevo fatto, però comunque se ho fatto quelle scelte mi hanno portato comunque dove sono ora, quindi sono comunque contento, non porto l'ancore, eccetera, eccetera. Prossimo grande obiettivo? Milione. Visto che ci stiamo... Assolutamente fare il prima possibile milione perché ho fatto un fioretto. Questa cosa non la sa praticamente nessuno. Io ho il mio computer che c'è dal primo giorno che ho aperto il canale, è sempre lo stesso, ho solo cambiato la scheda video perché ci può stare come cosa, e al milione ho deciso di mandarlo in pensione, però voglio arrivare a questo computer. Potesti mettere l'asta per beneficenza? No, 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 rimane a me. Piuttosto faccio una live di beneficenza, ma il computer è qualcosa di troppo. È un talismano. Sì, è il mio talismano, questo computer. Quanti anni di onorato servizio? Da... Tutti e dieci? Dicembre 2012. Da quando ho aperto il canale e l'altro? Pensate, è incredibile. Ecco, questo risponde anche alla domanda se serve per forza un computer da 3.000 euro per la... Secondo me non serve. Nel senso che io sono andato avanti con il mio computer che è sempre lo stesso, dal 2012 pagato 1.300 euro, e in questi praticamente otto anni, nove anni, ho semplicemente cambiato la scheda video. Basta. Mi ha fatti di rendering. Assolutamente. Mamma mia, non posso immaginare. Cioè, avrai i dischi, proprio quelle tracce usurate. No, dai, i dischi li ho cambiati. Diciamo che non ho cambiato il cuore, mettiamola così. Non ho cambiato il processore. Guarda, ti ringrazio tantissimo. Se vuoi lasciare veramente l'ultimissimo consiglio, cioè, tu consiglieresti tuttora oggi, nonostante sembrerebbe che ci sono milioni di personaggi influencer, consiglieresti comunque a un ragazzo, una ragazza giovane in qualsiasi settore di provarci a fare l'influencer? Guarda, io ti dico perché no. Magari poi più in là dirai, eh, perché non ci ho provato? Nel senso, secondo me, provarci, tentare non nuoce. Nel senso, se ci provi, non puoi mai sapere se è facile o difficile. È un lavoro difficilissimo, secondo me. Non è vero che è un lavoro facile. È difficile. Soprattutto quando inizia a crescere, perché devi comunque gestire un'azienda. Si può dire che inizia a gestire un'azienda con determinato personale, con l'editor, con il grafico, con lo sviluppatore. C'è un lavoro grande dietro. che magari non viene visto. È difficile, ma non è impossibile, secondo me. Soprattutto se nasci, non so, magari da TikTok. Io vedo che comunque ci sono tanti ragazzi che escono più facilmente da lì. Se si riesce a trasportare il proprio pubblico e traslarlo magari su YouTube, su Twitch, eccetera, eccetera, secondo me non è impossibile. Però bisogna provarci. E bisogna, secondo me bisogna crederci fin da subito. non bisogna partire con ok, deve essere il mio lavoro. Partire un po' per divertimento e poi magari portarlo a farlo diventare un lavoro. Perfetto. Grazie mille, Marcio. Allora, in bocca al lupo e aspettiamo il video del milione di iscritti. Ciao. 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 Ciao.